Sventata dal personale di Polizia Penitenziaria del carcere di Gazzi l'evasione di due detenuti, la notizia del tentativo di fuga è stata resa nota dal sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria che ha fatto sapere che ieri, nel primo pomeriggio, due giovani di 25 e 29 anni hanno tentato di scappare. I due giovani hanno approfittato delle ore di aria all'interno del cortile passeggi. Improvvisamente si sono arrampicati su un muro, riuscendo a raggiungere l'intercinta, ma le loro mosse non sono passate inosservate agli agenti. che hanno immediatamente fatto scattare l'allarme. L'esterno del carcere è stato circondato da polizie e carabinieri, mentre un agente ha sparato un colpo di pistola in aria per intimidire due fuggitivi, che hanno quindi desistito dalla fuga. L'episodio di ieri è il secondo in due mesi. Lo scorso 7 novembre un recluso, originario di Patti, mentre si trovava nel cortile passeggi riservato ai detenuti di media sicurezza, aveva scavalcato il muro di recinzione. Furono momenti di panico. Il detenuto, attorniato dagli agenti, minacciò di lanciarsi nel vuoto. Dopo un rocambolesco inseguimento sui tetti, il fuggitivo si arrese e venne trasferito al centro clinico dello stesso carcere. Sulla questione era intervenuto anche il segretario nazionale della UIL, pubblica amministrazione e polizia penitenziaria Armando Algozzino, che condizioni strutturali a parte sottolineò la carenza di organico. A fronte di 261 unità, previste infatti nella casa circondariale di Gazzi, ne sono presenti solo 206.